Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo brevissimo video nel quale vi voglio annunciare un po' come avevo fatto per il Games Week che questo weekend, il weekend del ponte di Halloween, sarò presente a Luca Comics and Games per la precisione sarò presente domenica dalle 2 circa, dipende quando arrivo a Montecatini dove ho l'hotel in pratica dalle 2 di pomeriggio la domenica fino a orario di chiusura mentre lunedì dovrei in teoria esserci per tutta la fiera quindi mi raccomando se doveste trovarmi in giro per diciamo l'intero Luca Comics non esitate a fermarmi se avete fanart da portarmi potete tranquillamente farlo tra l'altro so che molti li avevano al Games Week ma purtroppo non mi hanno incontrato e la cosa mi è dispiaciuta quindi mi piacerebbe che non ricapiti ecco per riconoscermi probabilmente andrò in giro con questo cappello così mi potrete scorgere più facilmente in mezzo alla folla e avrò sopra la maglietta di Bulbasaur che avete visto nel vlog dedicato al Games Week se non l'avete visto andate a vederlo così almeno avete un'idea di come sarò vestito e potrete raggiungermi molto più facilmente come ho fatto appunto per il Games Week ci sarà in descrizione il link di un gruppo Telegram nel quale entrare grazie al quale potremo mantenerci costantemente in contatto sempre se la connessione non mi va puttane vero 3 e così sarà più facile per voi incontrarmi in giro per la fiera detto ciò io chiudo il video e noi ci becchiamo al Luca Comics grazie a tutti